Gli Aztechi furono una civiltà precolombiana mesoamericana che fiorì nel XIV, XV e XVI secolo. Si riferivano a se stessi col nome di Mexica, pronunciato, Meica. La Repubblica del Messico e la sua capitale, Città del Messico, prendono il nome dal termine Mexica. Le origini degli Aztechi sono a volte nel mistero. Secondo la loro tradizione, erano originari di Astlan, una terra mitica situata nel nord del Messico. Nel 1248, guidati dal loro capo Tenoch, partirono alla ricerca di una nuova patria. Dopo un lungo viaggio, si stabilirono sull'altopiano del Messico, dove fondarono la città di Tenochtitlan, che sarebbe diventata la loro capitale. Gli Aztechi erano un popolo guerriero e ambizioso. Nel corso del XIV e XV secolo, conquistarono un vasto impero che si estendeva dalla costa del Golfo del Messico fino all'Oceano Pacifico. La loro capitale, Tenochtitlan, era una città imponente, con una popolazione stimata di oltre 200.000 abitanti. La cultura azteca era ricca e complessa. Gli Aztechi erano un popolo politeista e adoravano un pantheon di divinità, tra cui il Dio Sole, il Dio della Pioggia e il Dio della Guerra. La loro religione era caratterizzata da sacrifici umani, che venivano offerti agli dei per propiziare il loro favore. L'impero azteca raggiunse l'apice del suo potere nel XV secolo. Tuttavia, la sua caduta fu rapida. Nel 1519, un gruppo di conquistadores spagnoli, guidati da Hernan Corté, giunse in Messico. Corté riuscì a conquistare Tenochtitlan nel 1521, segnando la fine dell'impero la cultura azteca ha lasciato un'eredità profonda nella cultura messicana moderna. La lingua azteca, il Nahuatl, è ancora parlata da milioni di persone in Messico. Molte delle tradizioni e delle pratiche azteca, come la musica, la danza e l'artigianato, sono ancora vive. La religione azteca era politeista e i suoi fedeli adoravano un pantheon di divinità, tra cui il Dio Sole, il Dio della Pioggia e il Dio della Guerra. La religione azteca era caratterizzata da sacrifici umani, che venivano offerti agli dei per propiziare il loro favore. Il Dio Sole, Huitzilopochtli, era la divinità principale del pantheon azteca. Era il Dio della Guerra e della Luce e veniva rappresentato come un guerriero con un occhio solo. Il Dio della Pioggia, Tlaloc, era il protettore dei raccolti e delle piogge. Veniva rappresentato come un uomo con la testa circondata da nuvole. Il Dio della Guerra, Huitzilopochtli, era il protettore degli aztechi e veniva rappresentato come un guerriero con un occhio solo. I sacrifici umani erano una pratica comune nella religione azteca. Venivano offerti agli dei per propiziare il loro favore e per garantire la prosperità dell'impero. I sacrifici umani potevano essere di vario tipo, tra cui il sacrificio per decapitazione, il sacrificio per estrazione del cuore e il sacrificio per decapitazione e estrazione del cuore. Gli aztechi erano un popolo con una ricca tradizione artistica e architettonica. La loro arte era caratterizzata da un uso vivace del colore e da una rappresentazione realistica della figura umana. L'architettura azteca era caratterizzata da grandi piramidi, tempi e palazzi. Tra le opere d'arte azteca più famose ci sono le pitture murali di Teotihuacan, le sculture di pietra di Tenochtitlan e i manoscritti aztechi. Tra le opere architettoniche azteca più famose ci sono la piramide del sole di Teotihuacan, il tempio del sole di Tenochtitlan e il palazzo di Moctezuma. La cultura azteca ha lasciato un'eredità profonda nella cultura messicana moderna. La lingua azteca, il náhuatl, è ancora parlata da milioni di persone in Messico. Molte delle tradizioni e delle pratiche azteca, come la musica, la danza e l'artigianato, sono ancora vive. In conclusione, gli aztechi furono una civiltà complessa e affascinante che ha lasciato un'eredità profonda nella cultura messicana moderna.